Vinita di Special Edition 2021, siamo nello stand di Dr. Wine Collection e sto assaggiando il Collio Sauvignon Rompo delle Mele 2020 dell'azienda Venica e Venica. Venica e Venica sta a Mernico, che è nella parte settentrionale del Collio Goriziano, quindi in provincia di Gorizia, vicinissimo al confine con la Slovenia e questo è uno dei più importanti Sauvignon che noi abbiamo in Italia. È prodotto con un ve Sauvignon Blanc, un 20% viene maturato in volte grande, ha un colore giallo-verdolino come tutti i Sauvignon che si rispettino. I profumi sono i classici, i profumi di frutto della passione, ad esempio, leggera foglia di pomodoro, che sono i classici del Sauvignon. Un'ottima acidità, una bella struttura, rinforzata anche dal fatto che ha una parte maturata in legno e una persistenza straordinaria per uno dei migliori Sauvignon italiani.